Mamma mia, Jenny ma che c'hai buttato? Peppe, in silenzio questo video, in silenzio Peppe, sennò si svegliano i bambini. Ma io, se siete ricchiato, Peppe che stiamo a chiedere. Ma da l'altro, sono morto, Peppe, affacciati a campionati, affacciati a chiedere. Shhh, non fare casino, Peppe, non fare casino. Guardate che il campionino ruba, papà, papà, papà. Peppe, non fare casino. Sì, 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 sì. Sceglia una gente che non c'è nessuno. Peppe, non vuoi, Peppe, non c'è nessuno. Sceglia, non c'è nessuno. Vai, 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 vai. Vabbè, vissi cominciare, Peppe, ci scambio proprio qui, Peppe. Ci sei, ci sei, ci sei, Peppe. Vabbè, buongiorno a tutti, buongiorno, papà, papà. La settimana di Natale è cominciata, noi siamo super carichi a fascia in fronte, come Rambo, e siamo super operativi, sempre con prezzi pazzi. Vabbè, i prezzi sempre pazzi. Vabbè, i prezzi sempre pazzi. Vabbè, tutti tutti vivi. Vabbè, 20 euro e 99 centesimi. Robin Hood aveva mandato solo in euro, perché aveva mandato. Ma Robin Hood, sempre famaci il popolo. 20 e 99, tutto vivo. Tutto il popolo di Robin Hood, dì? 20 euro e 99 centesimi. Scambio tutto vivo. 7 e 99, dì? Guardate come sono bello, capite? Che batteria. 7 e 99 kg, guardate come sono bello. Tutti vivi, Peppe, guarda. Riprenditi, dì? Assaggia, Peppe, assaggia. Così, guarda se assaggia, guarda. E' un mare, tutto il mare. Faria blu, gamberi rossi, polipi 12 euro, 32 euro e 99 euro, dì? 32 e 99 euro, paranzia dei progetti 3 euro e 99, totani vivi 6 euro e 99. Gamberoni 10 euro, si pronuncia tutto vivo. Vedete bene? Guarda come sono bello, si pronuncia le robe nute. 7 e 99, polipetti 10 euro, seppio 7 e 99. Ma sono bello, mi sono bello. Magari, le motociclette di mare. 14 euro, calamari vivi. Guardate che scavate che calamari. Mamma mia. Poli peraci, 13 e 99, affacciate a pompele, dì? Vai, vai ragazzi, cominciamo. E non affacciate a pompele. Beh, vogliamo fare prima la panamica di qua? Ti voglio bene? Fammi mangiare. Partiamo dai polipi locali, dì? Voglio assaggiare un scambio di chistico. Guardate qua. Ancora vivi, Peppe, dì? Scambio locali, eh? Perché stai solo per gli amatori del peggio. Guardate qua, vedi? Guardate qua, vedi? Solo mare, vedi? Solo mare, vedi? Solo mare, guardate qua. Solo mare, solo mare. San Pietro locali, guardate questa pupatella, vedi? Guardate questa pupatella di mare, vedi? Solo mare, guardate qua. Ancora vivi, vedi? Guardate qui, vedi? Guardate qui, vedi? Arcobaleno stamattina. Super show. Belluzzi, Ischia. Tenti c'è ancora col lago. Pesci solo col lago stamattina, vedi? Il locale, scampo originante. Ricciò, ora di mare. San Pietro locali, questi camperoni, vedi? Mamma mia. Ecco. 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 Hai cantato una rosa, Peppe, ecco. Guardate qua. Super gamberoni, cicani, Peppe. Ricciò locali, calamari, seppia tutte vive, ecco. Guardate qua. Cominciamo con i flash, Peppe. Ci sei? Ecco sì. Guarda che spettacolo, Peppe. Guarda qua che triglia di scogli, Peppe, stamattina. Peppe, è solo mare stamattina. Solo, esclusivamente, mare. Calamaretti, via, go, go. Poi i petti tutti vivi, Peppe. Ecco. Ecco. Guarda che stai facendo una droppina. Guarda qua. Stai facendo tutto qua. Stai facendo tutto qua. Stai facendo tutto qua. Ma non mi mettono pesce stamattina. Pesce. Locale per tutti. Guarda qua. Stai con un banco infinito. Rompi qua. Cerni e bianchi. Calamari freschi. Poi i petti lì. Guarda che stai freddito. Guarda qua. Guarda che spettacolo. Berluzzi vivi 10 euro a kg. Pescatrice. L'uva rilocale. Scampi vivi 7,99 euro. Ora devo vedere. Seppi grandi 7,99 euro a kg. Cocci anche di Natale 3,99 euro a kg. Vai, fai. Ricordi che tu la c'è. Guarda qua. 4,99 euro a kg. Mamma mia. Gamberetti vivi. Cocci. 6,99 euro a stituto. Totali ancora vivi. Ti? 6,99 euro a kg. Misto male 2 euro. Seppi. Guarda che spiega di 5,99 euro. Noi non aumentiamo. Noi ribassiamo. Lupini 3,50 euro. 3,50 euro a kg. Vangole 8,99 euro. Lupini pesano. Maruzzini. A Natale vuole svangere. Quanto ce l'abbiamo? Stanno arrivando le torri. Maronna. Vi dico solo questo. Stanno arrivando le torri. A lì ce n'erano 99 euro a kg. 1,99 euro a kg. Anche di Natale. Baccalato di c'è. Stamore intero. 9 euro. Stamore attento. Guarda quanto a lì. C'è una pesante. Questa è la panamica a kg. Vangole arrivato un capitone. Un capitone. E' venuta la morte a tu. Capito. Anquillo per tutto quanto. Anquillo per tutti. Anquillo per tutti. Ora ti spieghi di 5,99 euro. Mi sto a 2 euro a kg. Mi sto a 2 euro a kg. 1,99 euro. L'uvero è vivo. Ora ti spieghi di 5,99 euro. Baranza super. Cambio è pieno. Vangole. 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 20,99 euro. 20,99 euro. Ultimi giorni. Non affrettatevi. Vangole a 2 euro a minuto. Se la faccio ma non si aumenta. Vangole. Spettacolo di male. Pesce infinitamente per tutti. Andiamo a vedere quanti assicci abbiamo. Petane per tutti. E' un minuto. Non metti il telefono. Salfi in diretta. Vai. Vai. Vai in diretta. Vai. Vai in diretta. Vangole. Vai. Gli ho fatto il postero. 7,99 euro. Si va bene. Col più peraccio 12 euro a kg. Sardegno. 3 euro. 2 euro. 2 euro e 99 euro. Vangole. E' un po' popolo, diere a Natale... Vedi come... Smancia sempre, vieni come pensate... Guarda, non c'è la cordura a Natale... Ma ma che cosa, che cosa? Vado a guardarmi, infiniti, infiniti Ven, vieni a vedere, guarda il ca' ma a questa quella che sta a tornare per tu! Guarda il ca' per... E' tornato tutto qua. Guarda quando è visto bene! Mamma mia, è una motocicola... Guarda quando è andata lì! Ado, teniamo i pesci con tutto qua! Gli astici, gli astici, li abbiamo? Guarda sti pupo locano, va! mamma mia, vici per tutto qua, secchi per tutti, con la macchina per tutto qua, aiutano il menù macchina, però te voglio fare una cosa, fate una panoramica, sugo mare, sugo mare, sugo mare, pepe, ripendi, vai, ripendi sugo mare, a salite e a scendere, va, vado fate una panoramica, vedi, scamponi ancora vici, pepe, lo spettacolo del mare, coci locali, sovamo pepe, sovamo pesci di amo stamattina, vedi, 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 sono ancora più, parlo, 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 vedi, sono mare, ti a pupatello, pupatello a pupatello, vai, pupatello a pupatello, vedi, uomo, uomo, sono mare, sono mare, sono mare, affrettatevi da due minuti, io ti, il pescimento lo fa, mamma mia, è ti, ti, uone, mi sa' andan, mamma mia, che ti immagino, un gamberon, uno scappolo? Vedi, sei una canoramica, sei proprio senza non ti senti di muro niente 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 ancora vivo ancora mamma mia se muovi tu hai nei locali che spettacolo sono vivo sono vivo stiamo stanno stiamo venuti solo perché abbiamo veramente un pesce bello stiamo venuti a bere ma tu hai detto che ti hai vedi questi sicci che siamo venuti ancora vedi qua vedi qua stiamo ancora non può venire vedi qua gli sfizi vedi 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 stiamo vivo vedi qua questa mattina guarda qua si fai con il flash veramente degli scogli originali mamma mia su per il spettacolo guarda qua il mare il mare vi faccio vedere i comori del mare i brillanti del mare pescatrice gigante cerni e vivo vedi qua top del top vi aspettiamo vediamo bene un bacione forte le robe non vedi qua fuori di natale vedi qua fattene pagare restate connessi restate connessi grazie io che l'abbiamo qui l'abbiamo qui vedi che si qui l'abbiamo che di Grazie.